Allora i vortici della terra si aprirono per elevare un degno erede, l'unico in grado di estrarre la spada, la spada nella roccia. Un uomo innalzerà la speranza e la virtù. Sono un guerriero nato pronto a conquistare, sono l'ancillotto, la speranza di Ertu. Sei con me nel vento e nell'anima, sensazione di energia. E liberai un potere che diventa dentro te, conoscerai la crudeltà di morte. Segnierò l'essenza dentro te. In poco le anime e negli orbici. E sarò te! Penserò a tutto quello che sarà senza te, senza più un sogno vivo in noi. La misericordia è la libertà, e l'unico in grado di estrarre. La misericordia è la libertà, e l'unico in grado di estrarre. La misericordia è la libertà, e l'unico in grado di estrarre. La misericordia è la libertà, e l'unico in grado di estrarre. Grazie.